Noi neanche ci candidiamo alle province che erano elezioni dirette e ora sono indirette e allo stesso tempo chi le vuole ricostituire deve trovarsi un altro alleato perché col movimento le province si aboliscono, le province non si ricostituiscono. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti voi, ai candidati, agli attivisti che porteranno avanti questa campagna. Siamo in studio, mi pare che il titolo sia caro Salvini, ti scrivo e siccome sei molto lontano, in Ungheria più forte ti scriverò. Che cosa... non sono d'accordo più su niente, mi pare di Salvini, è stupendo. Per chi fa il mio mestiere è veramente un po' straniante, Bitonci. Un governo che dice sempre cose diverse su tutto. Ma direi che è abbastanza normale in campagna elettorale quando si va a votare il 26 e quando i due movimenti comunque cercano di attrarre il massimo del consenso. Sono boutade. Perché se fosse stata una coalizione tutta di centro-destra o tutta di centro-sinistra ma essendo una coalizione di due movimenti che sono presentati anche in fronti opposti io la vedo una cosa che la presentano male e devo dire una cosa a chi ci ascolta che è molto più quello che è il riscontro esterno di quello che c'è all'interno per esempio tra sottosegretari, ministri, viceministri. Per esempio noi al MEF con... Cioè voi vi vedete al ministero e siete d'accordo su tutto, poi l'uscita è di maio spara zero. E dopo c'è questa cosa che è molto politica più che... perché si osserva che ogni giorno c'è ogni giorno la sua pena. Cioè ogni giorno c'è un momento nuovo. Allora, caro mia Veronica De Romanis, Bismarck, che tu ben conosci. Anche questo è un momento ridicolo perché comunque dove sono state cancellate le province faccio l'esempio del Friuli, si sono inventati degli enti intermedi perché passare dal comune alla regione senza comunque un ente di aria vasta è praticamente impossibile, chi ha fatto il sindaco lo sa bene. Voglio sentire la De Romanis perché voglio ricordare a tutti noi che Bismarck diceva che non si dicono mai tante bugie come prima di un'elezione durante la guerra o dopo una caccia e mi pare che siamo esattamente lì. De Romanis!